Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Per Gran hai già mentito qualche domanda? No Gran quando uscirà la prossima canzone? Non so Per Vali l'ultima volta che hai fatto l'amore? Poi l'amore figurati Io vi mando un abbraccione, grazie per aver seguito questa live È stata un po' diversa dal solito Un bacione a tutti, grazie E baciatemi il pene Non volevo dirlo, però l'ho detto Grazie Zicotto, grazie Nico Gianni, grazie Campagio Ciao Belli Chiaro, ora mi senti? Ora sì Perfetto, perfetto Allora, aspetta un secondo Io ho la live di qua ma non sento Non mi è saltato un attimo il wifi ma è una cosa abituale Perfetto, nessun problema Nessun problema Easy nel chilling Bene Tra almeno 4 ore Con calma Adesso con calma facciamo tutto Allora, io mi metto bello che qui Qua in piccolino Come al solito E poi facciamo Una Windows Capture Di qua Oh, sono convinto che sarei felice Ok, va bene Cazzo è uscito dall'orecchio figa? Polistirolo? No, era il pezzo di... Era il pezzo... Mi è rimasto un pezzo di mora in mano Un chicco di mora Ma era bianco Che cazzo di mora è bianca? Non lo so, zio O è quello O è uscito un ragno dall'orecchio Che schifo Può capitare che dei ragni si addormentino nelle tue orecchie mentre dormi E beh, certo Immaginando dove vivi Può essere Certo Da sola No, ma perché vivendo da sola non... Non ho quel problema lì Magari i vicini Non avete mai fatto... Ah, è la Madonna, minchia Che è un'orchestra di... Di cazzi No, ho dei buri che sono fatti di cartongesso Si sente tutto Ok Quindi magari vicini Ma non familiari o altro Chiaro, non vi hanno mai fatto accorgimenti su Oh, minchia, di sera andami forte No, no Perché non c'è stato però Ma dai, ma scusami Bezzo Ma cos'è? Tu becchi... Non lo so Becchi il tuo vicino in ascensore Comunque ieri, oh, bella eh Stringi la mano, cosa gli dici, scusami? Eh, dici, minchia, bravo ieri Eh, bravo ieri, minchia Hai intrattenuto tutto il condominio Mi sono sparato pure una sega da quanto me... Minchissimo E... Dopodiché c'è la cammina Ahahahah Grazie Scherotto Grazie mille Molto gentile, molto gentile Grazie Allora Due robe E una roba ve la voglio chiedere anche a voi direttamente Perché è giusto anche parlare con voi direttamente Ho un'emorroide enorme Non so come toglierla No, sto scherzando Uno scherzo anche brutto Di cattivo gusto per chi ce l'ha Davvero esplodono anche Grazie pelucci di Grimbaud Grazie mille Se avessi il tuo numero ti chiamarei un botto delle volte Sì? Beh sì Ma tu hai il suo numero? No, se avessi il suo numero fosse un suo fan Se avessi mandata con un fan proprio? No, mi hai dato un bacio a stampo con un fan Veramente? Quando? Allora, Rocket Ma in bacio a stampo? Sì Non prenderti male, Mary No, no, no Stai dicendo con sballo No, no, no Mi... Ah La situazione era questa Io mi stavo annoiando Era Rocket Ho detto, non volevo essere la notte Ciao Diva, fatti un attimo Che non me lo fa fare con... Ok Andiamo in su... Ok Ci siamo, ci siamo Dovrebbe essere tutto a posto in questo momento Ciao Ciao Sofia Sofia, giusto Quei nomi i nomi Perfetto Perché sono gelosa? Perché Perché pensavo di essere speciale per te Invece Che cazzo Perché sei rossa in faccia, Coq? No, forse sono le luci, non lo so No, le luci non credo che siano stroboscopiche E allora è perché... Vedo te Coq, quando è che finisci di prendermi per il culo? Mai, perché è troppo divertente Ma io non... Perché... Non gli basto Sono troppo vecchia per lui Bastardo T'ha capito? Sono troppo vecchia Cosa ne pensi, David? Meglio che non penso No 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 Grazie mille Una bomba Di Deodino tutti Ok, ok No, veramente, Coq Non lo farei mai Guarda, guarda, guarda Questo mi porta solo da Marti ancora di più Io mi sto veramente innamorando Ruttami in faccia sempre Rette? Sì, ne ho bisogno Però io non sono così Come no? No, io non sono così Sono una persona molto fine in realtà Ho un video di mia nonna che mi dice che sono una persona fine No, però niente Ma perché a te piacciono i bambini che ruttano? Sì Ma che problemi hai? C'è proprio la maleducazione più totale ti... Sì, come se mi sono fatto la bb ad ossa Sì, però basta animali Basta animali Un altro giorno Un altro giorno Ufff Mamma mia ragazzi Io vi giuro mi scioggo quei video degli animali comunque Mamma mia Com'è Love Your Dog? Com'è un dog? Un cane, una capra Una capretta Questo è brutto brutto però Lo posso? No, è un armadillo Che cazzo è sta merda? Questo è brutto brutto C'è un odio carino Nooo Minchia, penso di usarlo come masturbatore So che roba Sesto Non c'è una ragazza bella Magari dite un caffèrino In amaro Ehm... 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 Le mie daddy issues Vuoi farmi da daddy? In back Ehm... Ma posso parlare con una foca? Che animale è? Una foca... Nooo... Nooo... Una foca... Nooo... Nooo...